Sono ossa umane quelle ritrovate all'interno dell'auto carbonizzata Pucca in Albania. Questa la prima significativa svolta sulle indagini relative alla scomparsa di Davide Pecorelli, che arriva ad un mese esatto da quando si sono perse le tracce dell'imprenditore della Valtiberina. Nell'uomo infatti non si hanno più notizie dallo scorso 6 gennaio. Pecorelli era atterrato a Rinas i primi giorni di gennaio, poi aveva noleggiato un'auto ritrovata dopo tre giorni completamente carbonizzata da un abitante del posto a nord dell'Albania. All'interno della scoda Fabia gli investigatori avevano ritrovato, oltre ai resti umani, anche alcuni oggetti appartenenti al 45enne, un telefono cellulare e l'orologio poi riconosciuti dalla compagna dell'uomo. I resti umani però sono ancora bloccati a Tirana. Erano attesi a Perugia per l'inizio di questa settimana per il test del DNA con quello del fratello Antonio, ma si dovrà ancora attendere per il riconoscimento ufficiale dei resti. Sul caso, che ha aperto numerose ipotesi, vige ancora il massimo riservo da parte delle autorità italiane ed albanesi. Quest'ultime escludono una morte violenta e propendono per un evento accidentale. I magistrati perugini invece hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nelle ultime ore la compagna albanese di Davide Pecorelli si è rivolta ad un avvocato per assisterla in questa delicata fase. Il legare al momento attende gli sviluppi dell'inchiesta prima di intraprendere qualsiasi tipo di strada. Le autorità italiane infine stanno passando al baglio le attività economiche dell'imprenditore per tentare di fare ancora più chiarezza sul caso. Il 28 gennaio scorso così erano stati affissi i sigilli sull'attività gestita da Pecorelli a Sansepolcro.